Buonasera a tutti, benvenuti alla lezione del venerdì sera, vediamo la centratura del palco, ok, siamo pronti ad iniziare il nostro Total Body? Allora, come sempre ragazzi, questa lezione vuole essere una lezione adatta a tutti, alla portata di tutti, è una lezione di Total Body, quindi cerchiamo alternando delle fasi aerobiche di tonificazione di allenare tutti quanti i muscoli del corpo. Ecco, cosa ci serve? Utilizzeremo soltanto e esclusivamente una coppia di manubri, che possono essere tranquillamente sostituiti con una coppia di bottiglie d'acqua, meglio pesanti, due libri, non eccessivamente grandi, e poi ci serve anche il tappetino, quindi due manubri e il tappetino. Organizziamo il lavoro con un po' di musica, non è tanto alta perché da un paio di settimane ho il microfono in riparazione, dovrebbe essere pronto per riparare il più prossimo, e quindi utilizzeremo questo un po' di musica per aglietare il nostro allenamento. Cosa vi dico? Potete tranquillamente modulare i vostri carichi, semplicemente scegliendo dei carichi non tanto pesanti, oppure invece scegliere di fare un lavoro più intenso scegliendo dei carichi significativi. Partiamo subito naturalmente con il riscaldamento, mi preoccupo sempre di essere abbastanza puntuale perché poi a seguire abbiamo la lezione di Body Combat, quindi dobbiamo sforzarci di essere puntuali. Se avete qualcosa da segnalarmi, utilizzate i commenti che io ogni tanto scorrerò, per vedere se naturalmente va tutto bene, ok? Quindi scrivetemi, mi fa veramente strassi da piacere, per vedere se si sente bene la voce, se si sente bene la musica, se c'è qualcosa da modificare, ok? Ok? Allora, io direi di partire subito, subito, subito con il riscaldamento e basta, buona lezione. Ok? Ecco, quindi un quadratura si lega bene. Cominciamo a rendere l'aria. Cominciamo a rendere l'aria. Cominciamo a rendere l'aria. Prepariamoci piano piano. Ok? Un'aria, un'aria. Un'aria. 3, 2, subito dietro, subito alto, e più, e sale, indietro, in alto, braccio 2 di più, e 4, e 3, e 2, subito, muovo il busto, braccio in alto, e di nuovo, in posizione del busto, spingi il braccio in alto, 3, 2, 4 passioni, con il braccio che si allunga fuori, 4 in alto, andiamo, in alto, 2 volte di più, ultimo, 4, 3, aspettiamo tutto insieme, subito ginocchio, ancora nel cal, ginocchio, ragazzi, in posizione, in alto, vieni in posizione, 4, 3, l'ultimo, e andiamo avanti, in alto, in alto, in alto, e vieni, perfetto, ragazzi, subito in posizione, Allora, allungiamo i talloni, disponiamoli, in modo che siano un po' più ampi, delle nostre amiche, ok? Potremmo immagini, possiamo immagini, in basso indietro, spugne dei piedi, e spagnotate leggermente, verso le parti laterali della nostra stanza, Quattro di più, guarda qui, pulsiamo per tre, mantenendo sempre il tuo quadro, sepportiamo, in alto, si va, 3, 2, non ti leggi stretto, ancora due volte, ultimo, Dall'inizio, legna, ginocchio, subito dietro, subito alto, incontro del busto, dico in alto, ancora, ragazzi ci vediamo, 4, yes, puntiamo per 3, ottimo, l'ultima volta che diamo un po' più amante, yes, andiamo presso il piede sicuramente, vieni dietro, 4, 3, risalto, 3, 4, 3, 5, ancora 2, ragazzi in funzione per 3, 3, 2, ultima volta, adesso scontiamo il piede dentro, in fuori, mi affondo laterale, dall'altra parte, forza il tuo busto avanti, mantenendo le spalle lontane delle vecchie, ok? ragazzi, ancora lento, tutti avanti, braccia allugate, arrivo, ritorno, sopra qui, veloce, buono, meno 4, meno 3, meno 2, andiamo avanti, qui spingo fino a fondo e indietro, faccio un lungo passo indietro, mantenendo il busto, sempre lontano, sempre lontano le vecchie, ragazzi ci siamo, veloce, sicuramente, manzioni il busto dritto, con le spalle lontane delle vecchie, porta un po' di lato, porta un po' di lato, porta un po' di indietro, di là, e ora indietro, prima la destra, alterna le due gambe, questo blocco l'ultima volta, 4, 3, 2, ragazzi subito, lontano, lungo passo indietro, perfetto, l'ultimo giro di scaldamento, dall'inizio, go! Ancora, dietro, le braccia, piccoli da alto, e go! 1, 2, 1, 2, subito si pulsa, pronti per gli affondi? Vieni, lascia avanti, ancora due, ragazzi si affonda dietro, 4, 3, mano 2, buona roba, e stop! Qui, cominciamo lo stretching iniziale, il tuo gogno è di controllo, scoglieva la punta, le padevi te ruota, 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 5, 3, 2, 1, le padevi te ruota, 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 ragazzi portate l'allugamento, il talone della gamba si allungo a terra, iniziamo, posto in segno, vengo avanti, avvicino allontano, ancora, 4, 3, 2, dall'altra parte, qui, in fondo laterale, stai, ruota nel piede in su, ruota, stendi, piega, cuore e cuore, uccolo, dietro, apposso, attupo, 3, 2, 1, porto in velo, Marine, piedi, avvicino, spiego, un attimo, bravo, guanna, ruota, forti, faccio, 3, 2, botto in via, folto in pelo, vengo centrale, yes, ragazzi ci siamo, 4, 3, 2, 1, fatto in via, ancora ancora, torna il bacino e basso indietro, un bel spinone, via e scendi, ragazzi andiamo che sicuramente non ti piaccio, allora, vado avanti e leccate, qui, guarda, e vedete il bacino, gli levanti, e gli, tre, gli levanti, dove, dietro, solo due di più, L'ultimo! L'occhio, l'occhio, l'occhio. Attura! Ragazzi, qui si amo! L'occhio, l'occhio, e qui fai 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 fai. ... L'occhio... Di là... ... ... ... Sì. 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 Non hai voglia di cantare in motte? Mi chiediamo il problema. Mi stanno con la cittata in piede. Quattro. Sì. 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 Primo forzo. Mano indietro. Girono. Pegolati. Mano indietro. Ragazzi. Buono. Vado avanti. Mancini. Mi braccia con poste. Ok. Plot a pulsione. Buono. Quattro. Tre. Due. Un altro calcio. Ragazzi. Tutto qui eh. Ti va. Esima. Un poco. Qui. Chi. Quattro. Ni ta nha. Etc. Meti en. un po' di due un po' di due un pino un po' di funzione ultima volta ultima guarda guarda Bello, grande, grande. Si va. E dietro. A chiudere. Jumping. Corretire. Forza. Qui. Jumping, Jeff. Forza, skip. Si va. Ajá. Si va. Regaci. Vengamos los pies de corto a tu sconto. Switch. Skip. Avanti. Y dietro. Y dietro. Acorda, manti. Giampi, step! Guardati! Giampi! Facciamo tutto! Vieni! Indietro! Ma avanti! Guardate ci stiamo! Giampi! Prompi a ripetere dall'inizio! Qui! Lenta! Giampi! Subito avanti! Indietro! Obrano squat! Guardate! Pulsate tre! A foda! Qui! Yes! Indietro! Tanta roba Ragazzi Subito dietro Ancora avanti Sampa, sampa E qui Quattro jumping Porta kick Siamo sotto Abbiamo tutto Ultimo giro Vediamo l'ultimo giro Ora ne mettiamo Ma qui abbiamo tutto Ancora due Tutta per tre Ragazzi gli affondi Tanta roba Subito dietro Siamo pronti Ginnoccio a calcio Qui va Ancora due Ehi, ehi Otro tre Otro plom Ci siamo Ci siamo Giampi Ehi E questo Prendi il pezzo E ti è freddo Alla grande Allora Per tre scelte di intensità Ballone Sotto e pianti Betto super alto Ballone blu Anche Sotto e i nostri anche Solo qua I tuoi gommi ti sono avanti Il unico lavoro Nel quale Mettiamo le braccia Le braccia Mettete il carico sulle spalle Mettete il cavolo Non è che cavolo ne usiamo Sotto Sotto Segui la pole Porta il bacino dietro il basso Tanta roba Sponti Ragazzi Qualunque sia il vostro Tipo di peso Disponetelo Uno contro l'altro Oppure afferratelo Nel mondo più fuori Che ti avete Allora Per un strumento Esplodo in alto Qui Ok Squat Tre Alla grande Quattro Tre Telle lontone E stop Andiamo avanti ragazzi Tre Tre Sotto E giù Due Squat Per Per la transizione Del clean E del flex Ok Il punto è fermo Si muovano Si muovano Soli e braccia Sotto Sotto Due Quattro Tre Due Tanta roba Ripetiamo tutto prima di andare giù a terra Sul tappetino Ragazzi Posizione di squat Posizione di squat Balloni Appena più ampi delle anche Single squat Sotto Siedate l'addome Spalle allontanere le orecchie Conditi avanti Per avere La chiara percezione del petto alto Sotto Tutti i pulcoli della schiena super contratti Glugio e aggione contratto Sotto Sotto in avanti Qui Qua Resti Non si fermare Non ci sono pause Sotto in passato twenty Sotto in passato Non lo so Sotto in passato Sotto in passato Why Sotto in passato Sotto in passato lavori Non lo so Con questo Basta su Esplodi lato Due per arrivare a 12 Tanta roba Buon lavoro Allora A terra Buon ripeti Primo lavoro Abbiamo detto Cosa al body Mani anche Pettro e mette i bobidi Ok Primo lavoro Spare non c'è delle orecchie Due possibili posizioni Dei piedi O Pinocchio giù Punta dei piedi Oppure soltanto Non c'è Sbocchia 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 Guardo il vosso Atterna Avanti Sbocchia 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 Porta gli piedi seperti Sbocchia Salute Sbocchia Dosse P失enzi Sbocchia La tua Sonia Tira Sbocchia 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 12 secondi per la volcina andiamo in posizione di fly mani sulle spalle colonna lunga e forte e stendo la gamba dietro rimane il conferma e qui avvicino al gomito il ginocchio al gomito c'è l'addome la schiena è sempre dritta ancora due ragazzi e stendo dietro e poi avvicino al gomito al gomito 8 7 6 un po' più veloce e più di lì più un po' più veloce e più veloce e più veloce veloce mani ampie giù dai dai a tutto come l'ultimo fatta roba bravissimi fate robica 2 4 ripetiamo 4 volte rispira rispira ci va 12 15 di manco meno di scuola fino alla fine 3 1 sei pronto al contrario braccia avanti ragazzi indietro pronti con l'occhio il ginocchio di l'occhio il ginocchio il ginocchio qui qui indietro non te ne va a fine subito indietro avanti buon dovere tutto che ripare un po' per tre faccio il ginocchio indietro pezzo alto a fondo laterale braccia avanti vieni fin vedate che siamo pronti qui dalle dalle il ginocchio qui fatta veloce ancora giotti Gatti! Quattro, tre, terzo giro, go! Ancora due! Gatti! Kursa pepe! Facciamo i maschi dietro! A fondo laterale! A la grande! Spico dietro! Ragazzi, giro più calcio! Sti! Spico amanti! Spico amanti! Scuola uno! 4, 3 ultimo giro 6 spicchi, spicchi ancora 2 3 postazioni a fondo lato a fondo dietro 4, 3 e dietro giro 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 ultimo giro 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 a tutto il posto e il gluteo e siamo talone più a piedi sulle gambe per i tuoi piantchi singoli squat ancora, ehi potete in avanti quattro di più sterra e gluteo nella prova ragazzi andiamo avanti qui quattro di più occhi di più ancora esplodi in alto contro il gluteo ehi allora transizione esplodo ritorno in basso linea e press 5 6 go in basso togli i tuoi fuori per le transizioni della braccia e le transizioni della braccia quanta roba meno quattro meno tre due due già lo sapete secondo blocco stetti energeti abbiamo conflitto senza nessuna pausa ragazzi si va ragazzi si va quattro presto ancora ma non quattro di più pronti qui 4 6 tutto super fermo modi sulle braccia modi sulle braccia a chiudere spalle gluteo il nostro corpo ma qui facciamo anche peggio e addome tanto questo è tanto addome push up andati con 12 estensioni 12 push up 12 estensioni della gamba dietro gluteo avvicini il ginocchio al volto mani all'aspetto del petto scendi la posizione di voi e poi con il ginocchio con il ginocchio con il ginocchio con il ginocchio 4 avanti male lo stanno nelle orecchie ultimi 4 ancora dentro passiamo via posizione in fra mani sotto le spalle corona come forte ragazzi estensioni della gamba dietro rosso go lascia il braccio fermo 4 3 2 andiamo sul movimento lento 3 mountain slider porta il ginocchio al volto guardate siete pronti? però 3 go riprendiamo prima il lavoro delle gambe scudiamo con quello della braccia per favorire la circolazione del sangue ok ok chiusciamo ti congo serie ti lavori le gambe lento e poi veloce estendi lentamente ragazzi veloce più latino fermo colonna lunga forte e poi 4 3 2 uuuuh lento su corpo per paranoia pero mi chiun pi pł 4 Alla. Alla. Vagazzi. Solo oto, non pucia. Mani anche. Ute, te vieno, i miei sono anche. Chi va. Porta. Inspezione, che non vieni. Molto, i miei sono i miei positi. Piero 4. Piero 3. Piero 2. Alla, che naghe. Terza fase robotica. Recupera questo giro è la fase rompica alla case scuola faccio il passo indietro ragazzi dai puntazioni giù sali fino a fondo laterale braccia avanti vieni dietro ginocchio calcio schi indietro avanti e dietro giocci e giocci 4 go go e dietro e dietro come on oh chuta per tre Siete. Siete. Cinco. La taroba. Lascia che lascia. Siete. Noi i los guyi. Sto di dietro! Ancora manchi! Ragazzi ci siamo? Ultima volta fase erotica! Già! Ehi! Ancora due volte! Pulso per tre! Pronti per gli appoggi laterali? Appoggi il dietro! Cinozio carcio! Cinozio carico! Cinozio carico! Sì! non da roba adesso ancora vedo il cappettino lavori incombinati subito cominciamo a fondo singolo per partire qui subito dietro schiena supertrista avvicini il ginocchio della gamba dietro a terra il ginocchio forma su due angoli in un'altra casa ok in un quattro in un tre ragazzi in un due alla grande perfetto sistema i tuoi taloni sotto i piatti abbiamo un rematore scendi con i piedi contro le ginocchio con i piedi contro le ginocchio in un pezzo tra le ginocchio prevatore singolo il tuo momento, tu in alto che puoi dal tuo dietro, vieni la sua spiata, fate non fare vediamo alla gorelle Andiamoci avanti, un pezzetto oppure tutti i due, stegli su, l'importante è mantenere la posizione corretta, cominciamo con la semplice e il testo precipiti. Chi sei? Allora, una delle due gambe, fa un lungo, passo e dietro, ok? Il equilibrio, accogli sempre con la scossa gamba, non distrappare, spate non spate le orecchie, Andiamoci avanti, seconda, tre, due, uno, distegli, quattro di più, tre di più, due, Scegli un po', tutto per il male, sciogli un po', respira, ci sei? Secondo, sicuro, blocca, l'ovito, subite con le due spade, sei la lavoratore? sei pronto? tre due stisina di nocchio a terra corri di stile le vecchie a scolpire braccia e gambe ancora ancora ultimo due yes bravi allora a terra prima che la volo del nome due esercizi lavoriamo sugli obiettivi interni primo lavoro pare a quarte a terra stiamo stiamo tutti stiamo manteniamo i metodi a terra stiamo manteniamo i metodi a terra 4 di più 3 di più avrete un spalle a terra potete ruotare con il vostro bacino ok sangio tutto maglia le pezze ginocchio sulle apche sopio ruota la tensione in pezzo 1-4 1-3 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 ragazzi ci siamo ragazzi c'è una spazio rotta una spazio rotta qui a foto a foto a foto i pietro a foto giro piaccio giro 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 un po' per tre ragazzi, risponda giro più paggio finito guardate è l'ultimo l'ultimo potere che sta avanti l'ultimo il dietro l'ultimo l'ultimo la punta ragazzi ancora due l'ultimo 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 ancora e gola non ti mi pare un pochino un pochino un pochino ragazzito un pochino un pochino singolo aggiornate i tuoi talloni sotto le anche piedi con il vento tutto il pilocchia porta i tuoi inizialate di fuori veloce ancora via 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 qui il rematore singolo il govito sale più che puoi avvicini le scape della corona meno quattro meno tre ragazzi meno due meno uno e qui sali qui qui continua doppio extension se vuoi utilizza due pesi per l'allenamento al massimo ok rimangono poche ripetizioni capiciniamo la fine via ok mantenendo sempre i gomiti sopra le spalle e le spalle lo farei delle vente fare un lungo passo indietro s'asservi la stessa gamba singolo singolo ferma l'addome schiena super dritta schiena super dritta regazzi tre puntazioni ora tre due mantieni la nuova posizione delle ginocchia sul fondo sulle armoni di novanti sulle armoni uno due due distendo ragazzi tutti i due uh 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 recupola respira da un'altra parte cambia solo gamba in attorno qui andiamo si va si va si va si va si va si va sorriso reputazioni reputazioni distenti vai vai ancora addominali super contratti palle non salita le orecchie ragazzi diminuite il peso mantenete la schiena dritta l'ultimo ultimo due e manda grande Uso lì, respira di tutta l'altra, sciogli un po', e qui, anche qui si può andare con le belle lecchie, parlo della mano a sé, in alto, riporta, riporta, le gambe, allora la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, le spalle, ancora la tendella, vai, la parte, si sta chiamando, si chiенchia, c'è tutto ilINAGU, si chiama. Prendiamo il peggiole, ragazzi ci chiamo, pochiamo le mani alle peggie e chiediamo con un cross-throw, sui sui interni, solo una spada alla volta che si trova, ruota verso il suo intervento, mantieni come chi vede gli interni e ruota con il giusto di dormizione, guardate, meno quattro, meno tre, meno due, cerchiamo le mani alle peggie di occhia, mani, chiamo le mani alle peggie di occhia, muoviamo le mani alle peggie di occhia, Fino a posizione, via tracciata, poi mettiamo l'eserciata, ok, metto alto, guarda le due orecchie, pollici indietro, pollici in basso, guarda le due orecchie, pollici indietro, pollici indietro, pollici in basso, guarda le due orecchie, mangio l'eserciata, appena, l'eserciata, emozionato, E cambio! Spero che sia andato tutto bene, me lo auguro davvero. Un grande saluto a tutti quanti, vi aspetto tra 5 minuti per il body combat. Un grande saluto a tutti quanti.